Piccolo breve video per rispondere un po' a tutti coloro che mi stanno scrivendo in questi giorni chiedendomi se i corsi online sono validi oppure no. Stiamo parlando dei corsi online di doppiaggio che ultimamente sono piuttosto sponsorizzati. Ovviamente quello che ti posso dire è che se sono i miei, sì, sono validi ovviamente, però io sono stato il primo a creare dei corsi online che sono accessibili sul sito, rimarranno a te per sempre e che puoi rivedere infinite volte. Questo lo puoi fare attraverso il mio sito www.ribettivalter.com Ma ci sono due tipi di corsi. Ci sono quelli prettamente online che sono messi su un sito come il mio o come quello di adattamento dialoghi, come quello per l'edizione oppure dei corsi che sono in diretta, online. Ora, non ti so dire se siano buoni oppure no perché così come per le scuole non mi esprimo ma ti ho dato sia sul sito che qua sul canale YouTube un po' di informazioni per riconoscere un corso buono da uno o meno buono ma la cosa che ti dico in maniera davvero spassionata è fateli due conti, ma fateli davvero due conti perché alle volte mi chiedete se un corso è valido oppure no io non so e alle volte non voglio rispondere perché non voglio fare questi favoritismi oppure segare dei corsi che non conosco bene ma i prezzi sono assurdi fatti due conti e fai dei paragoni ci sono dei corsi che costano il doppio rispetto ad altri il doppio oppure hanno lo stesso prezzo ma le ore sono la metà ora, se il corso è pure online e quindi non bisogna sostenere le spese di uno studio di un fonico e magari il fonico lo può fare da casa allora dovrebbe diminuire leggermente altra perplessità sui corsi di doppiaggio proprio online, quindi in diretta con una persona che ti segue e una cosa che ho sperimentato io stesso è la difficoltà della sincronizzazione tra audio e video l'audio arriva prima, il video dopo quindi anche con la miglior connessione c'è sempre mezzo secondo di ritardo e il doppiaggio che si basa sul sync non è sicuramente favorito può andar bene per le letture può andar bene per l'interpretazione può andar bene per la documentaristica tanto, vabbè, mezzo secondo di ritardo non importa però, sui corsi online mi esprimo solo sui miei ovviamente, corso di edizione corso di adattamento dialoghi sul mind setting del doppiaggio e sugli altri non chiedetemi più di tanto ma vi prego valutate i costi ve lo dice Fra Valter grazie a tutti